Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi sarà il primo video recap barra lista in uscita quest'anno. Almeno quello di oggi è una tipologia di video che ho portato avanti dal 2020, quindi i film più attesi dell'anno che è appena arrivato. Premesse, naturalmente, è una lista totalmente personale ed essendo tra l'altro una lista non una classifica non andrà dal film che attendo meno a quello che attendo di più. Saranno solo in un ordine sparso, neanche in ordine d'uscita, anche perché alcune date sono americane, altre date invece sono quelle italiane, ma lo dirò film per film. E prima di iniziare, come sempre, magari vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, tanto i link sono nella descrizione tra Instagram, TikTok, X, X, Twitter, Letterboxd, che è un social che sto usando tantissimo in quest'ultimo periodo e lo sto adorando, e mi trovate anche sul nuovo Trez. Se invece con l'arrivo del 2024 avete intenzione di arricchire il vostro armadio con t-shirt e tanto altro a tema cinema, serie tv e non solo, vi ricordo che collaboro con il sito di Pampling, dove potete trovare questi design che stanno scorrendo adesso sullo schermo e se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze saranno gratis, vi costeranno 0€, sarà infatti un regalo del sito e del mio codice. Adesso però iniziamo con i film che più attendo nel 2024. Kung Fu Panda 4, in arrivo in Italia, questa è la data italiana, il 21 marzo. Beh, che dire, Kung Fu Panda è una delle mie saghe preferite in assoluto, è la mia saga preferita all'interno del contesto Dreamworks e attendo molto questo quarto capitolo nonostante il trailer mi abbia abbastanza raffreddato. Questo perché mi ha dato l'impressione di aver visto un trailer di un episodio qualsiasi della serie che tanto tempo fa trasmettevano su Raigul, adesso non guardo più tv quindi non so se c'è ancora, ma c'è la nuova serie su Prime e su Netflix. Comunque mi sembra semplicemente un qualcosa di molto passeggero e non l'inizio, così almeno è stato anticipato, come l'inizio di una nuova trilogia su Kung Fu Panda. E infatti Qui Po sarà il maestro di un nuovo, futuro guerriero dragone, torneranno i villain, in teoria anche se nel trailer si è visto solo Tai Lung, è interessante anche il Kamaleonte, questo villain di questo nuovo film, però ho come sentito che non gli sia stata data un'importanza, l'importanza che effettivamente dovrebbe avere, perché può letteralmente diventare qualsiasi personaggio che è già comparso all'interno della saga. Non lo so, sinceramente aspetto di vedere qualche altro trailer per continuare ad avere hype o smorzarlo completamente. Ah, dove sono i 5 cicloni? Questo me lo chiedo. Nel trailer non compaiono minimamente, se non mi mettono tigre io boicotto il film. Godzilla per Kong The New Empire In arrivo in America, ancora non c'è la data italiana, il 12 aprile. Sinceramente attendo questo film solo perché dal trailer mi ha dato l'impressione di una tamarrata ancor più grande di Godzilla vs Kong, che a me non era neanche dispiaciuto poi così tanto. Ormai prendo i film del Monsterverse così come sono, aspetto di vedere qualche altro trailer magari per capirne di più. La CGI non mi fa impazzire, questo è vero, non mi faccio problemi sulla corsa di Godzilla sul finale, perché, vabbè, oh, ragazzi, è finzione, totalmente finzione e soprattutto un film così tamarro, mi accontento pure se questo Godzilla totalmente a caso iniziasse a ballare il Gagnam Style, quindi non vorrei essere così fiscale per un film che si chiama Godzilla per Kong The New Empire. Il villain mi incuriosisce, questo sì. If, non so se manterrà questo titolo in italiano o sicuramente verrà aggiunto un sottotitolo, arriverà in Italia, almeno questa è la data che c'è su Google, il 16 maggio. Diretto da John Krasinski, che io adoro per The Office, ma questa è un'altra storia, il trailer che ancora non è uscito in italiano mi ha incuriosito molto. Poi vabbè, nel cast ci stanno anche Steve Carell, anche se solo vocalmente, e Ryan Reynolds per me è già venduto questo film. Mi dispiace solo non vedere di nuovo Steve Carell e John Krasinski in carne ed ossa sullo schermo assieme, perché anche lo stesso Krasinski doppierà un personaggio nel film, e sinceramente mi sembra un film molto divertente dal trailer, quindi lo guarderò senza alcun dubbio. Madame Web, che arriverà in Italia il 14 febbraio. Per San Valentino il Sony Spider-Man Universe ci riserva questo film sulla Madame Web, non quella cieca sulla sedia a rotelle che ci sta nei fumetti, finalmente la gente ha capito che tipo di personaggio vedremo nel film con il primo trailer, trailer che mi sembra molto qualcosa di provenienza CW, The Flash Arrow, però sarà che forse so qualcosa sulla trama, più di qualcosa sulla trama, una sorta di Terminator Marvel, ma mi interessa questo film, ed è una cosa strana da dire nei confronti di un film del Sony Spider-Man Universe, anche se poi in questa lista ne troveremo un altro, ma forse sia per questo che per l'altro è più una curiosità da incidente stradale a questo punto, sicuramente per l'altro sì. Inside Out 2, in arrivo in America, ancora non c'è la data italiana, il 14 giugno. Inside Out è uno dei miei film Pixar preferiti, Pixar in generale è il mio studio di animazione preferito in assoluto, e davvero non vedevo l'ora che annunciassero questo sequel, perché forse tra tutti i film Pixar, tra gli ultimi film Pixar, è forse quello che si presta più ad avere una continuazione appunto sul fronte di questa storia di Riley, anche perché sì, il primo film finisce completamente, ma lascia un po' spazio a qualcosa di nuovo. E infatti con l'adolescenza del personaggio arrivano nuove emozioni, una cosa che forse un po' distrugge tutto lo studio che c'è stato nel primo film, perché effettivamente quelle cinque emozioni del primo Inside Out sono le uniche emozioni base che poi vanno a formare tutte le altre, per esempio ansia, quella che si vede nel trailer, ma ce ne saranno già altre nel poster, ansia appunto è la fusione di alcune delle emozioni già esistenti. Non so come giustificheranno questa cosa, anche perché le stesse emozioni nuove che ci saranno qui non saranno presenti, non erano presenti in realtà, nelle menti, nelle teste dei genitori o degli altri personaggi, ma voglio mettere alla prova in qualche modo Pixar, fa parte più o meno della curiosità per questo film. Ecco l'altro film del Sony Spider-Man Universe, Kraven di Hunter, o Kraven il Cacciatore, uguale. Devo dire che il trailer non mi è neanche dispiaciuto poi così tanto, ci sarà violenza, sarà il primo film rated R del Sony Spider-Man Universe, so però che questa violenza è stata aggiunta in curva all'ultimo minuto per rendere il film più accattivante in qualche modo, per me la violenza messa a caso non rende qualcosa più bello, però voglio vedere, sono comunque curioso di come la tratteranno, come tratteranno in realtà lo stesso personaggio, perché si potrebbe fare qualcosa di molto interessante con Kraven, però visto quello che hanno fatto con Venom potrebbero tranquillamente buttare tutto all'aria. Di incidenti stradali ce ne saranno sicuramente tanti nel film, e questo è appunto l'altro film per cui ho una curiosità malsana da incidente stradale, vorrei guardare per capire che cosa succede. Dune parte 2, in arrivo in Italia il 13 marzo. Non so adesso in quale altro video io abbia parlato di Dune, forse mi è capitato di dire che era uno dei migliori film del 2021, forse, probabilmente, direi, per qualcuno lo è stato. Per me, all'inizio, in prima visione in sala, lo è stato pure, poi l'ho rivisto a casa con anche il Blu-ray 4K, e ragazzi, no, mi sono annoiato tantissimo. Però attendo questo secondo perché intanto c'è Florence Pugh, poi c'è Florence Pugh, e poi c'è Florence Pugh. A parte gli scherzi, sono veramente curioso perché dicono che sarà un film diverso dal primo, sarà più action, si capirà intanto a cosa, su cosa andranno a parare. È già rumoreggiato il terzo capitolo di Un Messia, quindi mi aspetto veramente un altro To Be Continued in questo, in questo secondo capitolo, ma vabbè, speriamo che però cercano di, cerchino di puntare più su tutto ciò che non sia il warbuilding, perché l'hanno già fatto nel primo. Povere creature, in arrivo in Italia il 25 gennaio, quindi fra qualche giorno comunque. Il film è già arrivato negli Stati Uniti, è uno dei più apprezzati del 2023, sarà sicuramente candidato a qualche categoria degli Oscar. Ho recuperato Yorgos Lanthimos nell'ultimo periodo, ero già intenzionato a vedere povere creature, soprattutto per il cast, perché c'è un cast enorme, c'è Emma Stone, poi c'è Emma Stone, vabbè, questa gag l'ho già fatta. Poi però è partito tutto da un'amica che ha proposto comunque di vedere questo film, ed è subito scattata l'idea di recuperare tutti gli altri film di Lanthimos, ovviamente quelli che si possono recuperare, perché alcuni sono veramente introvabili. Attendo molto povere creature perché, oltre ad essere stato acclamato così tanto oltreoceano, ripeto il cast, realmente mi interessa tanto, adoro la storia di Frankenstein e questa è una rivisitazione, ovviamente non originale perché è tratta da un libro chiamato Poor Things, e devo ammettere che adoro tantissimo lo stile di Lanthimos. Beetlejuice 2, che arriverà negli Stati Uniti il 6 settembre. Tim Burton è uno dei miei registi preferiti in assoluto, nonostante qualche ultimo scivolone. Beetlejuice probabilmente non è il mio film preferito del regista, però attendo questo sequel per capire che idea ha avuto per continuare la storia. Diciamo che il cast principale tornerà a tutto, io non vedo l'ora di vedere di nuovo Michael Keaton nei panni dello spiritello Porcello, ci saranno anche Jenna Ortega, è proprio in stile Benigni, Monica Bellucci. Questa cosa non che mi convinca così tanto, ma riserva un po' di speranza in Tim Burton, che conosca le doti della sua compagna, quindi spero non gli abbia dato un ruolo importantissimo. Deadpool 3, unico film dei Marvel Studios ad arrivare in sala quest'anno, arriverà in America almeno per ora il 26 luglio. In Italia non c'è ancora una data, ma dovrebbe arrivare fra qualche settimana, tanto che il primo trailer proprio dovrebbe arrivare a febbraio, nel periodo del Super Bowl. E ragazzi, che dire, potrei definire anche questo film come curiosità da incidente stradale, ma non voglio perché Deadpool mi piace, i due film li adoro. Qui torna anche Hugh Jackman e questo potrebbe essere anche una piccola parte dell'incidente stradale, ma non riesco per ora, non l'ho ancora visto, non riesco per ora ad essere così negativo nei confronti di questo film. Ci saranno sicuramente le sfilatone dei cameo, me ne aspetto davvero tantissime, per me questo è un punto in meno al film, ma se riescono un po' a contestualizzarlo, comunque a prenderle in giro, parandosi un po' il culo come sempre fa Deadpool, potrei anche accettarle in qualche modo. Sicuramente c'è molta curiosità da parte mia perché voglio veramente capire che cosa faranno con il multiverso, soprattutto perché dovrebbe essere un film totalmente in canon con l'MCU, tanto che dovrebbe esserci la TBA, forse lo stesso Mobius, e vediamo, alcuni cameo sono già stati spoilerati dalle foto dal set, a febbraio vediamo che cosa ci mostreranno con il primo trailer, sicuramente qualche bomba la lanciano così qualche cameo di quelli già spoilerati lo rivelano anche nel trailer, e passiamo a un altro cinecomic con Joker Foliade. In arrivo il 2 ottobre in Italia, in teoria questa è la data che c'è su Google. Ho un rapporto un po' strano con il primo Joker perché a me era piaciuto veramente tanto alla prima visione, poi ho recuperato Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese, e ho notato che sono la versione migliore di Joker, però continuo in qualche modo ad apprezzare il film di Todd Phillips, per me non è un brutto film come in molti dicono, Joaquin Phoenix sicuramente bravissimo, Oscar meritato e bla bla bla, però sono curioso per questo sequel, non tanto perché il sequel di Joker è una storia che ho apprezzato all'inizio, ma perché dovrebbero esserci delle sezioni musical. A me il musical non fa impazzire come genere, nonostante alcuni dei film musical facciano parte dei miei film preferiti, però la curiosità è tanta, voglio capire come inseriranno queste parti, sicuramente saranno robe della testa di Arthur Fleck e di Harley Quinzel, sempre se così si chiama il personaggio di Lady Gaga, che Harley Quinn è sicuro, però magari per renderla meno fumettosa cambiano il nome del personaggio umano, comunque dell'alter ego. Spero vivamente non esca una cringiata. Passiamo poi a Nosferatu di Robert Eggers, che arriverà il 25 dicembre negli Stati Uniti, data italiana ancora non conosciuta. A me Eggers piace molto, il film che preferisco tra tutti è The Witch, poi subito dopo The Lighthouse, The Northman non mi aveva convinto poi così tanto, però aspetto vivamente di vedere questo remake di Nosferatu, perché dovrebbe essere proprio un remake del film di Murnau. Non penso sia un film con le didascalie, dovrebbe non essere un film muto, però apprezzerei il coraggio in caso. Per ora sono uscite solo delle immagini, quella come quella che ho usato per il poster che state vedendo adesso. Molti dei poster che avete visto finora sono fan made, perché ancora non ci sono i poster ufficiali, e si sa ancora poco di questo film, ma lo attendo tantissimo. A Quiet Place Day One, che arriverà il 26 giugno in Italia. I due film di John Krasinski mi sono piaciuti, il secondo un po' meno in realtà, però comunque apprezzato. Questo Day One, questo prequel, non avrà Krasinski alla regia, ma sicuramente mi aspetto una comparsata così della famiglia di Krasinski e della Blunt. Qui dovrebbero esserci Lupita Nyong'u, qui dovrebbero esserci Lupita Nyong'u, la protagonista di Us, e Joseph Quinn, non ricordo se si chiama così il metallaro di Stranger Things, e alla fine sì, sarà semplicemente un altro film di A Quiet Place, non continuerà la storia del secondo, per quello ci sarà il terzo capitolo che arriverà prossimamente, però siccome la vicenda del non poter parlare per non morire mi interessa, io sono curioso anche per questo prequel, spero in qualcosa di innovativo e non semplicemente una copia del primo film. Mufasa e The Lion King, che arriverà in America, almeno per ora, il 20 dicembre. Probabilmente a questo punto in Italia, non so se arriverà sempre nel 2024, o Slitterall 2025, spero di no. Tutto sommato a me, il remake live action del Re Leone era piaciuto. Non credo di essere poi così tanto cattivo nei riguardi di questo film, perché anche se il Re Leone è uno dei miei, anzi il mio classico Disney preferito in assoluto, non mi sono sentito violato in qualche modo da questo remake, anche se a tutti gli effetti un documentario di National Geographic, alla fine. E aspetto questo prequel su Mufasa, perché voglio vedere cosa si inventeranno sul passato di questo personaggio, non credo avremo la storia creata dai fan, non ricordo se era una cosa ufficiale o appunto fan made sul suo rapporto con Taka Scar, sicuramente il rapporto ci sarà, ma non credo venga rappresentato in questo stesso modo, e tutta la curiosità in realtà si ferma qui. Altro remake live action, questo però dovrebbe arrivare su Disney+, sto parlando di Lilo e Stitch, con un semplice 2024, non c'è ancora una data, probabilmente lo slittano anche al 2025, perché non si sta sentendo parlare proprio di questo film. altro film per cui ho una grandissima curiosità da incidente stradale, perché intanto voglio scoprire come verrà fatto Stitch in CGI, perché quello che vedete qui ovviamente è fan made, non è originale, e poi anche Lilo e Stitch è uno dei miei classici preferiti, e voglio capire se proprio come è successo per Il Re Leone, potrei apprezzare questo remake live action, oppure odiarlo totalmente, come alcuni hanno fatto appunto con il film National Geographic. Maxine, anche questo con un semplice 2024, non c'è ancora una data ben precisa, secondo me in Italia arriverà nel 2025, come del resto anche gli altri film, perché questo è appunto parte di una trilogia, quella di X di Tyra West. Ho visto sia X, la Sexy Horror Story, che Pearl, entrambi mi sono piaciuti, Pearl non così tanto, non quanto almeno il primo film, questo seguirà la storia di Maxine, subito dopo il film X, la Sexy Horror Story, e sono anche in questo caso curioso di scoprire dove andrà a parare il film, cosa criticherà, o meglio, quale parte del mondo del successo criticherà, perché ovviamente si andrà a parare sempre lì, e passando velocemente agli ultimi film di Ironclaw. In arrivo l'1 febbraio in Italia, il film è già arrivato negli Stati Uniti, dicono che qui Zac Efron sia stato magnifico, potrebbe tranquillamente aggiudicarsi l'Oscar, io prima voglio vederlo, ma ci credo, ci credo che Zac Efron stia un po' scalando le vette della recitazione, un po' come è successo per Robert Pattinson, non conoscevo la storia prima che uscisse il trailer, poi mi sono andato ad informare, e sono curioso anche per quella, perché è una storia vera, il wrestling non è che mi dispiaccia così tanto, quindi la curiosità c'è, e poi è A24, proprio come Maxine, e se c'è quella A seguita dal 24 davanti a un film, per quanto mi riguarda, già parte dell'apprezzamento è scritto. Mickey Seventeen, penso si dica così il titolo, arriverà a marzo, in teoria il 28 marzo in Italia, mi sembra strano perché ancora non è arrivato un trailer, ma questa è la data che c'è scritta su Google, probabilmente è stato slittato, non fidatevi comunque di questa data, perché mi sembra veramente strano, è il film con Robert Pattinson, appunto già citato, diretto da Bong Joon, regista di Parasite, Parasite a me è piaciuto tantissimo, quindi sono curioso di vedere questo altro film, non ho visto tantissimo di Bong Joon, anzi vorrei assolutamente recuperare Memorie di un assassino e Madre, sicuramente lo farò presto, ma questo è il secondo film americano del regista, il primo è Snowpiercer che ho visto, non si sa tantissimo, solo una piccola sinossi che si trova online, però mi interessa soprattutto per il regista e per l'attore, appunto Robert Pattinson, che è tutta altra persona e sono contentissimo per lui. Ultimo film che non ha ancora una data ben precisa, ma dovrebbe arrivare comunque nel 2024, altro film della A24, Death of a Unicorn. Anche di questo film non si sa tantissimo, si sa solo il cast dei due protagonisti e un po' la vicenda di quello che vedremo, abbiamo Paul Rudd e Jenna Ortega che interpretano padre e figlia che durante un viaggio di vacanza, così in auto, investono un unicorno e lo uccidono. Questa è l'unica cosa che sappiamo e per me già va bene così, io voglio vedere questo film, dico davvero, aspetto di vedere qualche immagine ufficiale, qualche trailer, questo è un poster fan made, ma spero vivamente che l'interesse non scenda dopo il materiale ufficiale. Ma ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social tra Instagram, TikTok, X, Letterboxd e appunto Trez. C'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt a tema cinema, serie tv e tanto altro e con il codice ilpensiero4 avrete un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!